Ben trovati, ospite di oggi studio, Jacopo Ciopp, responsabile vendita e crone. Benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo come si è aperto il mercato del trailer nel 2015. Dopo un inizio incerto a gennaio, dovuto anche al fatto del rientro delle vacanze, abbiamo riscontrato nella clientela un certo interesse a richiedere prezzi, a farsi più attivi e oltre questo abbiamo anche contrattualizzato vari ordini, il che ci dà un po' di fiducia che qualcosa stia riprendendo in modo più massiccio rispetto all'anno scorso. Perfetto. E invece che programmi e soprattutto che investimenti futuri avete come crone, e come real trailer? Beh, come crone abbiamo il nuovo titolare, nuovo in quanto figlio del titolare, del padre che è titolare e che ha preso le redini del comando e sta modernizzando e innovando un po' l'azienda, creando un'immagine un po' più determinata e soprattutto sta rilevando le compartecipate perché a livello dirigenziale vogliono una risposta immediata, quindi senza dover mediare con altri, senza dover fare tavole rotonde, ma il mercato esige risposte rapide, pronte e chiare. Questo quindi è stato possibile acquisendo tutti i marchi nei quali erano in società come la fabbrica turca e la fabbrica degli assali e anche altre piccole cose che erano divise con altri. E loro stanno molto investendo anche sulla ricerca tecnologica riguardo alla tara, quindi di alleggerimento dei rimorchi, che ciò permette maggior carico e minor consumo del trattore, sia a vuoto che a carico. Oltre che verso l'aerodinamicità dei veicoli, poiché questo, fatto in un certo modo con determinati spoiler, dà sì che i consumi scendano anche del 15-20%. Quindi insomma, parliamo di una notevole quantità. Sì, è fondamentale, il gasolio è la prima voce come ne consumi. Viceversa per quel che concerne noi come Real Trailer, in quanto si è creato un po' un vuoto di produttori di semirimorchi tipo cisterne o ribaltabili in Italia dovuto alla crisi, abbiamo pensato di aggiornare i nostri prodotti con altri marchi come Vanol, che è un famosissimo produttore belga di cisterne e di tank container, e la Stas, che è anche lei belga, che è una famosa produttrice di piani mobili e di ribaltabili. Per cui pensiamo di colmare parte di quell'offerta che si è persa nel tempo dovuta alla crisi. Perfetto. E invece quali sono i veicoli che attualmente, diciamo così, vanno di più sul mercato? Ecco, c'è una piccola controtendenza, perché l'anno scorso è andato molto il semirimorchio frigorifero dovuto appunto ai consumi, siamo un paese di mangioni, e quindi dovuto ai consumi alimentari, esatto, grazie. Viceversa adesso c'è più una tendenza verso i rimorchi porta coil, perché un po' di risveglio dell'industria pesante in Italia si sta verificando, anche se è visto la Fiat che sta riprendendo, Fiat fa un grande uso e consumo di materiali ferrosi appunto. E poi sempre il centinato, è sempre il primario, perché si trasporta un po' di tutto. Oltre che c'è anche un ritorno, ma quella è una fase ciclica, al materiale secco che viene portato nei furgoni non frigoriferi, tipo la posta, cose da corrieri. Ecco, questo intervista e ovviamente vi auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.